Un killer ha deciso di smettere. Basta, mi ritiro. Un altro vuole entrare nel giro. Ho studiato tutti i contratti che hai portato a termine. Ma per essere il numero uno, deve eliminare la concorrenza. Io e te! È una cosa tra voi due, giusto? Lasciami fuori da questa storia. Ho scelto la persona sbagliata come mio eroe. Oggi sono diventato il numero uno! Mi hai mancato! Sono ancora vivo! Silvester Stallone, Antonio Banderas. Io ti mando al creatore. Assassins. Un film di Richard Donner.